ok allora stavolta vado a lei allora le dico solo una cosa quando nomina male o bertone 0 non ridere grazie a tutti non vuoi fammi aprire solo quello che dico tranquillo contieni ci siamo appassionati di formula 1 coloro che seguono la YF Channel dall'inizio della stagione buonasera ragazzi benvenuti e bentornati siamo nella terza categoria che viene sempre in seconda battuta nella settimana nostra weekend nostro della YF Channel gran premio di Belgio e con onore ufficializzo i miei compagni di viaggio di questa sera che sono il mio caro R.V. Manuel buonasera ragazzi buonasera a tutti e inedito stasera abbiamo in nostra compagnia Loris Batacchi ciao Loris buonasera 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 a tutti allora dicevo è la dodicesima gara quest'anno questa stagione penso questa vero dodicesima abbiamo ormai superato abbondantemente la metà diciamo che già manca ancora qualcosina e vedi insomma chi può lottare ancora chi rimarrà diciamo in mezzo alla classifica è stata una bella gara anche quella scorsa ma noi ci ricordiamo l'Ungheria è successo di tutti gli ultimi 5-10 giri quindi intanto chiedo subito se si sente tutto ciao Simoncino buonasera ciao Same si preveghiamo se si sente anche la vorrice di Loris spero di sì ovviamente sembra che sembra che sarebbe sentito tutto bene bene allora dicevo siamo nel gran piano di Belgio penso una delle piste più belle ma pure diciamo come si dice a piacere nostro che comunque chi è che non piace spa raga quindi sarebbe bello pure andare a vedere in realtà una gara in spa perché è una delle piste più belle che la formula 1 ci regala io prego prego veramente che un giorno non ce la tolgano anche perché il rumor si dicevano che forse l'avebbero cancellata nella nella cosa io ho detto che ha rinnovato alla fine cosa più io guarda ti dico preferisco spa che monza guarda che ti dico Manuel quindi beh questa quando parliamo dell'università della formula 1 se la tolgono fanno una grandissima cavolata assolutamente assolutamente allora pista a Belgio siamo a spa dicevo Bella e Loris tu che ti toccherà giovedì sera io e Manuel l'abbiamo già precustata sotto la pioggia che t'aspetti per giovedì come la vedi sta pista per domani dici spero che non spero che non piova quello è sicuro però dai mi aspetto una bella come anche che nella realtà poi è una bella gara sicuramente combattuta spero per me con Fabrizio fino alla fine e soprattutto con tanti sorbassi e tanti anche colpi di scena perché qua è una pista dove essendo molto veloce si può comunque anche c'è l'errore dietro l'angolo con i cordoli un po' un po' bastardini che ti possono far perdere la macchina un momento a quell'altro è una bella pista Manuel e noi che abbiamo corso lunedì sera abbiamo visto insomma quello che è successo in qualifica è stata una bella qualifica molto tirata comunque è stata una qualifica un po' da virgolette falsata ma specifico falsata nel senso che comunque gran parte di noi girava con l'assetto da bagnato quindi nonostante tutto però Manu che tempi che abbiamo sono stati fatti abbastanza buoni sì infatti dopo anche l'Apollo 42 e 6 se non sbaglio di Shadow se non ricordo male quindi avevamo anche tempi molto veloci poi abbiamo visto anche molti veloci su 42 pure in Q3 quindi che poi eravamo comunque tutti non lontani eppure essendo una pista molto lunga mi aspettavo comunque distacchi un po' più ampi quindi speriamo che questa sera anche i ragazzi della RWS ci facciano divertire con tempi molto ravvicinati anche per noi è solo spettacolo diciamo che nonostante tutto comunque sotto pioggia proprio come Manuel poi passando al livello diciamo personale chi più chi meno insomma c'ha avuto problemi il buon Shagod ne ha approfittato su dei tutti praticamente ci ha dato come bestie quindi sì ma lui è la sua pista è la pista sua preferita sempre detto sì intanto io vedo il primo giro lanciato che è di Giubagat io intanto saluto la chat salutiamo Loris no si è tirato Piero si è tirato Piero e poi direi che oba oba ma si è già ritirato si ma si è ritirato non ho capito neanche dove deve scontare i quali banchi ho capito ok appena posso inquadriamo d'arta sicuramente per la connessione allora primo chiudere il giro è Giubagat in 1 46 alto 46 0 è un tempo un po' altino ci aspettiamo dei bei tempi comunque il cielo è prevalentemente grigio bello coperto quindi io adesso non so quello che ci aspetta in gara è bello gonfio è bello carico allora Loris intanto che è l'accuno insomma dai primi tuoi tempi i primi giri che come gommino la vista sti bei ragazzi ti dacci intanto l'aggiornamento in quanto riguarda la classifica piloti costruttori eccetera eccetera te lo do subito allora abbiamo in testa la classifica piloti Adelante Pocho con 190 punti seguito non tanto distante da Corrado Loda a 178 poi un super predestipante che è entrato a gamba tesissima in questa RWS e che segue a 171 molto attaccato a secondo posto poi abbiamo i due della Williams Dany Messi e Pullit poi seguono Achille Bevy con 137 MRK 22 65 Jubacchette con 49 Gabbo 42 Steferrari 40 Jäger che anche lui è entrato abbastanza bene che è un nuovo entrato mi sembra no Jäger sì sì con 30 punti Sante 25 Enzo Cod 16 Tartaruga 14 Piero 13 Paul 10 poi Stilio 6 Alfetta 5 Oba Oba 1 e Mario Bertone 0 la classifica con costruttori vede la Williams in gran spolvero proprio sta dominando la classifica con costruttori dominatrice proprio è proprio dominatrice assoluta con 313 punti abbastanza staccata c'è la Mercedes poi in terza posizione attaccatissima la Mercedes per solo i due punti Glass poi troviamo Alfa Romeo Alpine Red Bull Aston Martin molto attaccata la McLaren Alfa Tauri e poi il fannino di coda la Ferrari speriamo che nella realtà non sia fannino di coda però per i buoni picciuccia tutto è tranne che una gioia che comunque per quanto riguarda l'LVS sia io che per l'Alfa Tauri sia per la Ferrari insomma non è che se la stanno passare tantissimo bene diciamo che anche per quanto riguarda la Mercedes Emanuelle c'è il buon Tarta che non riesce a trovare proprio il feeling quest'anno con la Formula 1 invece un Corrado Loda in grande spolvero perché ci ha fatto anche delle cose lui è lotta per il campionato sì sì quindi lui sì assolutamente l'RWA con la Mercedes se no sta passando un bel momento diciamo anche col cambio con il cambio piloti salutiamo intanto il nostro Nani se ci sta seguendo quindi hai un buonissimo pilota vicino perché comunque è vero che ha avuto subito dei problemi in partenza però stiamo avendo sfortuna in questo momento molto allora intanto io vorrei dire sto a studiare che sto nel giro di RV Gabbo e ti devo dire che sta a fare degli ottimi buoni settori e io penso che è uno di quelli che sicuramente ci farà vedere un grande giro lui mi aspetto anche un grande Dani Messi e Pullit non lo nomino perché se no diciamo se nomino poi qui e Emanuelle lo gufiamo quindi io ti voglio sottolineare comunque secondo me è un tempo alto anche se gomma gialla però tempo alto si può far molto meglio comunque tante gomme gialle stanno provando sono curioso di vedere il giro di Dani Messi che da quello che so con gomma gialla ha un bel un bel un bel tempo scusami l'oro quindi sono molto curioso comunque sono un po' altini perché anche Jäger 46,3 mi aspettavo un tempo un po' più veloce al momento eh sì sono tempi alti sono tempi alti io penso che Tarta la connessione ce l'abbia buona io non vedo che da botti lag come in Ungheria sì sì sembra buona stasera sì sì sono contento sì Simo Schiele dice pista fredda sì sarebbe da vedere più che altro noi non possiamo vedere i dati dei gradi della pista temperatura queste cose qua non ce lo diranno mai peccato questo perché comunque io penso che il giro è alto anche perché comunque come dicono loro la pista è fredda quindi io penso che un giro buono su un 45 e mezzo lo faranno anche un 45 e basso dai 46 è veramente alto è alto ragazzi no è alto è alto allora Danny ha alzato il piede al Camel quindi direi che 45,2 eccolo eccolo il primo giro buono ma io dicevo perché Mirko già con le gialle stava facendo vedere che comunque ha degli ottimi numeri io sicuramente lo metto lì per i primi 5 di stasera per quanto mi riguarda meno in questa pista perché comunque ho visto che stava a girare un altro bene ha dato un bel ha dato un bel colpo è un bello strappo comunque 8 decimi 8 decimi 8 decimi allora intanto c'è corretolata pure che è lanciato io mi rimando un attimo su di lui per vedere che fa il pilota della Mercedes ricordiamo uno dei bigliani ah è gomma gialla è uno dei bigliani ah è gomma gialla no è gomma rossa gomma rossa gomma rossa forse non capisco andiamo a vedere un attimo i dettagli non riesco a capire perché me lo dà va bene forse perché ha girato quella gomma gialla prima probabilmente per questo io penso sta su 46 alto alto altino 47 e 2 ma non penso ha fatto un ottimo secondo settore io probabilmente ho sbagliato il primo settore comunque è un corretolato anche lui sicuramente ci aspettiamo un grande giro allora riescono su pull it si stanno a cominciare a fare diciamo i primi tempi infatti vedo 40 pull ha fatto 46 e 2 ma io penso che Mirka ha dato un bello stacco a tutti quindi da curioso vedere poi il tempo di Dani Messi insomma però regà è ancora presto per vedere i tempi buoni per Q1 sappiamo che è difficile tutto in una pista come Spa che fare il tempo buono che intanto una metà lì si è praticamente parcheggiata in Q1 curva 1 dicevo fare il giro perfetto qui a Spa regà tutto tranne che è semplice no è crashato si è crashato vabbè si recupera si recupera allora Joe scusami ma c'è un settore abbastanza importante di pull it il primo settore 31 che è già un bel settore per essere il punto di Q1 un gran bel settore sì ero curioso di vedere anche il giro di Dani Messi andiamo a vedere tanto su pull it anche lui su Qsoft intanto io chiedo scusa a chi ci sta seguito e la voce che c'ho però diciamo che non sono al toppe della forma fisica quindi io mi farò da anche una grande mano da Loris buon tempo anche 40-50 però sempre tanto lontano anche da Mirko qua sta perdendo ma io penso che c'è ma c'è un alfa tauri eh sì però è nel giro secondo me l'alfa tauri ma c'è tutt'altro passo però quei pull it adesso si adesso si si pull it si gira e l'ha praticamente presa lui ha toccato il cordone esterno l'ha tenuta adesso te stai attendo perché ha un tentativo non deve sbagliare più beh ricordiamo qui raga provare con la gomma usata è veramente tanto difficile che comunque no è quasi impossibile perché si suona molto sì parti addirittura se non sbaglio con la soft con quasi il 30% d'usura quindi è veramente tanto rischioso intanto vediamo il giro di Dani Messi che sta per concludere quel Luca è un gomma media ma sta facendo un grandissimo tempo 45-8 Dani Messi con la gomma media ma è un ottimo tempo per il pilota della Williams bravissimo ero curioso vedere il giro di pull it comunque peccato è pull it secondo me era sul 44 era sul 44 perché vedendo il settore il primo settore e il secondo che secondo me ha perso qualcosa però poteva essere sul 44 ma adesso un'altra inizia a avere pure un po' più di pressione perché hai solo un tentativo non devi sbagliare diciamo diciamo che qua fa il giro secco non è tutto altro che semplice no perché è la pista lunga quindi mettere tutto il giro assieme è complicato soprattutto il settore centrale perché comunque bene o male è il primo settore comunque bisogna essere anche onesti lo rush impari comunque la traiettoria non è più difficile farla quindi è bella io penso sarà veramente difficile farla ogni volta nella realtà ma nel game regà non penso tutta sta complicatezza alla fine diciamo che anche coste auto non è difficile bisogna anche di questo soltanto vedo bandiera gialla ma sicuramente i periodi che rallentano per far passare gli altri probabilmente perché comunque fatto il giro rimani senza benza esatto intanto vediamo il giro di 913 regà io faccio fatica lo chiamiamo direttamente mu quello della Ferrari è una ricordiamo ma è un povere Muge penso che sia Muge intanto 45-4 è un ottimo tempo anche della Wild ricordiamo infatti non l'abbiamo sottolineato praticamente la lineup della Ferrari è completamente cambiata solamente per stasera le assenze di vale di no di stima è Enzo God Enzo God dall'altro chi facciamo gli auguri è che è il compleanno suo quindi giustamente festeggia e abbiamo le new entry diciamo Wildcard di Theo Happy e lo chiamo 1-913 ma io direttamente mu perché sinceramente Pulit 45-2 con oh Pulit si si ha fatto 45-2 con ma si è fatto un signor giro il tiro ha fatto anche un paio di errori quindi un 45-2 tranquillamente un 40-2 Achille Bevi intanto Achille Bevi Achille Bevi 45-1 ma stanno a cominciare a usci i giri allora non li stiamo seguendo peccato perché ero concentrato anche sulla Ferrari di Mu quindi Achille Bevi ha fatto 45-1 ma è un grande giro è un grandissimo giro è già un buon tempo ma io vedo anche comunque sprazzi di sole probabilmente forse la pista oltre che a gommarsi sta migliorando il metro ma pure la pista perché col sole si riscalda quindi si ti atti a vedere chi sta per concludere il giro se non sbaglio no Sante in uscita si sta lanciando si Sante pure Panza Panza nel giro mi sa andiamo a vedere si andiamo a vedere le pilota dell'Alfa Romeo il pilota colui che sta facendo sognare a tutti gli alfisti colui che sta recuperando tantissimo terreno sui primi ha fatto veramente grandi si ha fatto veramente grandi cose sia in Austria ma soprattutto in Ungheria ha fatto vedere grandi cose proprio quello che è successo alla fine della gara ma non lo sappiamo sta proprio volando sta proprio volando 1.15.8 1.15.8 predestiva insomma ragazzi a chi le bevi nel secondo settore siamo a 16.7 del primo sta volando ha fatto 29.9 panza il primo settore sta volando questo è 44 boss andiamo a vedere come conclude il giro il pilota dell'Alfa Romeo il pupillo di Thomas il TP dell'Alfa Romeo andiamo a vedere come conclude il giro ma farà un grandissimo primo mamma mia 44.2 ha fatto 44.2 ha dato un secondo quasi un secondo ad Achille Bevi io penso in questo momento no ma io penso no ma io penso che è migliorata la pista ma anche di brutto ma diciamo comunque i tempi erano molto alti ragazzi se guardi se guardi scusami giusto ti interrompo però se guardi il tempo di Achille Bevi fatto un paio di minuti prima cioè si è preso comunque un secondo quindi la pista più o meno era nelle stesse circostanze di quelle che ha trovato Panzo in un minuto non è che migliora un secondo la pista ha buttato 44.0 ma è molto lontano è molto lontano da Pretesti Panzo andiamo a vedere intanto Teo Appi che sta concludendo il giro la la wildcard della Ferrari vediamo Ciuccia se veramente avrà occhio di riguardo è altissimo è altissimo è altissimo ragazzi è altissimo veramente tanto alto se non sbaglio c'è RwSanta che sta a concludere il giro andiamo a vedere uno dei miei pupilli dell'Alfa Tauri RwSanta vediamo come conclude il giro in 1.45 anche lui buono 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 un po' così un po' così c'è Corrado lanciato primo settore 31 stavo tenendo 4 decimi a 90 su questo tempo ma diciamo regà Pretesti Panzo ha dato un grandissimo strappo 8 decimi da Gabbo anzi Gabbo ha fatto il giro qualche minuto fa l'ha addirittura chiuso quindi tanto se non sbaglio ha fatto un super tempo lui perché Gabbo ha fatto il giro dopo di lui quindi la pista comunque si può migliorare un po' ma ha fatto il giro dopo di lui Gabbo quindi io rimane un attimo su Corrado Lodo e vedere con cui del giro perché io non vedo bene ma non so quanto manca penso mancheranno pochi minuti comunque la fine è finita è finita è finita è finita la bandiera a scacchi è infatti vedo la bandiera le bandiera ha finito allora quant'era l'intertempo 1-15 eh ma 15-8 no Corrado Lodo è altissimo manuele però sta togendo un secondo e due quindi ho deciso 46-0 ma diciamo dovrebbe passare il taglio sì passare il taglio sì allora poi io rimarrei vediamo un po' c'è anche Giubbaga Jäger sono curioso di vedere il giro di Jäger se è lanciato penso che si sì però lui Jäger farà un bel salto perché comunque ha fatto un buon primo settore non ai livelli di pan sì intanto è P12 per quanto riguarda Corrado Loda non è un grandissimo tempo infatti io penso lui stesso sarà veramente rammaricato Manuel lui stesso però mi sa sì perché al momento vedersi a due secondi da Panso non è una delle migliori situazioni no ma comunque intanto Jäger fa segnare il settore il secondo settore suo veloce personale perché comunque non è non solo Fuxia no no era sul 16 era sul 16 162 162 162 162 è rischiato proprio però è dentro è dentro sì è dentro perché intanto la fetta pure è dentro quindi non penso che si lancerà sicuramente non si lancerà quindi Jäger a prescinde come in cui del giro comunque è entrato un Q2 e la butta anche lì in P2 45 netto è un ottimo giro ma la domanda rega la domanda mi sorge spontanea ma niente niente per caso è un assetto da bagnato eh io non ce l'ho mica pensato sai però perché comunque Corrado Loda ha girato veramente alto Pulit ha girato alto Dani Messi lo stesso Dani Messi aspetta Dani Gialla però eh ma ha fatto il giro comunque alto io penso comunque sul 44 e 6 44 e 7 sta Dani Messi adesso allora ti dico Pulit scusami se ti interrogo scusami allora Pulit il primo giro che ha fatto quello dell'errore non era era quasi a livello di Panzo cioè avrebbe fatto un 44 e mezzo 44 e 6 se non avesse trovato traffico e poi se non ci fosse girato quindi secondo me non lo so sarebbe da vedere in Q2 secondo me il Q2 ci darà più allora bravissimo perché comunque i riferimenti della Q1 regà a me lo so sincero non mi sono tanto chiari che comunque vedo Jäger addirittura a P2 vedo vabbè predestipanza non mi stupisce Pulit comunque Dani Messi lontani addirittura Corrado Loda se non sbaglio è P14 cioè veramente rischia lo taglio quindi io sinceramente è dato da vedere la line up ma anche a delante difficoltà c'è un dicesimo Mario Bertone addirittura partirà P18 la diciamo la Wildcar Ferrari partirà in P17 Piero eliminato pure Piero io mi aspettavo tanto 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 P15 entrato con le gialle in Q2 Tarta con le gialle in Q2 che faccio i complimenti tutte e due le affa d'auri in Q2 diciamo che adelante poi c'è comunque abbastanza lontano buona la prova di Mu come anche lui l'altra Wildcar in P9 quindi è tutto da vedere diciamo che abbiamo visto ma non abbiamo visto nulla praticamente ancora secondo me quindi no no secondo me se la pista cioè allora se le condizioni non sono da asciutto avevano tutti un po' di timore di sbagliare di incuno e quindi sono andati un pochettino proprio con le pinze a fare le varie curve di tutto quanto proprio per evitare di sbinarla di perderla secondo me il Q2 vedremo sicuramente ma se ne vede qualcosa intanto non ho visto prima i riferimenti per quanto riguarda diciamo chi ha usato chi uno chi uno e due stint ho visto intanto comunque uno stint solo che l'hanno fatta è importantissimo Manuel come diciamo prima è che comunque partì con lo stint usato qui c'è addirittura il rischio di sbinarla per quanto una posso spingere col pedale insomma sì sì ma per questa vista già è facile sbinarla ha maggior ragione con gomma usata allora intanto vedo il primo a uscire se non sbaglio è una Ston Martin sì è Jäger perché ho proprio una fatta qualifica c'è anche la Mercedes con gomma gialla sì intanto vedo anche dice Panzoni dice Dani Messi eppure ti si nascondono ma io non penso che si nascondano io penso che allora Dani il tempo ha fatto gomma gialla quindi il 44 ce l'ha sicuro non si è nascosto per me Panzone te lo dico visto che stai ascoltando a live per me hai fatto un gran signore giro però non ti montare la testa la testa bassa è lavorare come dice Antonio Conte quindi io non penso che piove perché se no ce l'avrebbero già detto ma comunque nel caso ci dovrebbe essere pioggia ragazzi vi dico vi prego di non spoilerarlo perché è più bello così esatto io intanto rimango sulla bellissima livrea dell'Aston Martin di Jäger D7 quindi che diceva ieri se non sbaglio che hanno scritto 07 di Jäger gli ha scritto 07 non ho capito quella piccola faccenda su Jäger che gli hanno sbagliato lì gli hanno sbagliato lì di vabbè beh non fa niente comunque da con Mario Vito Jäger secondo me non c'ha la nuova perché non è guarda basta andiamo a vedere sì andiamo in on board non sembra nuova basta guardare già le posteriori non è nuova allora se non ho visto male che sono riuscito a vedere qualcosina prima di passare Jäger è uno di quelli che ha usato due set di Gonukum perciò non è nuova per forza per favore se ne bevi si vede che non è nuova è per questo io Loris te ringrazio perché queste piccole chicche sono importantissime perché poi ci daranno riferimenti giusti per la Q3 beh più corti allora vediamo come si lancia il pilota dell'Aston Martin e come diceva il buon caro Loris andrà con gomma usata come se ne accorta anche Manuel e so curioso se vede più che altro come la legge perché comunque il settore centrale che ha con gomma usata è veramente tremendo eh lo so poi vedo anche però guarda se riesce a fare un 45 basso con gomma usata occhio che può farcela anche allora io rimango con Jäger e poi vado direttamente su Achille Bay perché sono curioso di vedere poi il pilota dell'Alpine anche lui con gomma usata sì sì ma probabilmente più di qualcuno allora con un con 2 stint però Tartaruga riesce con la gialla dopo che si è qualificato con la gialla poi regà mi spiegherà Tartar che scelta ha fatto vabbè comunque 32 il settore di Jäger andiamo su Kill e Baby in un 29,9 3 decimi secondo me è più scarico però è più scarico per tutto il settore è tutto rettiline diciamo può darsi più scarico però mi sta venendo il dubbio perché con gomma usata fare un 29,9 perché comunque perdi tanto che c'è con gomma usata per il tanto al al Rouge non lo so non lo so intanto Panzone Manuel Manuel scusa Manuel Manuel scusa se ti interrompo Panzone ti chiede ci ricordi le misure di Spai non so che domanda te la chiede Panzone questa beh allora come le misure del campo Spai diciamo è una pista un po' più stretta quindi è larga 18 metri virgola 6 e lunga 7 chilometri e 4 metri perché questo lo ricordo tanto raga Jäger ha recuperato un pochino ha recuperato un pochino al settore centrale ha guadagnato un po' più su Achille Pevi quindi sicuramente ne ha un pochino di più sui piloti dell'alpina però sono lì perché se calcoli Achille ha guadagnato 13 il primo settore poi ne ha perso mezzo secondo nel secondo quindi è un buonissimo questo giro ragazzi questo è un 44,9 andiamo a Kille Pevi come sta chiudendo il giro ma penso che è ma 45,5 ma Jäger ha fatto un signor giro ragazzi se è con come usata tanto questo secondo me è un tempo che si può qualificare intanto andiamo a vedere Sante Sante giro annullato se non sbaglio c'è sta pretestimando Paul è lanciato Paul sta per concludere il giro l'altro pilota dell'alfa romano andiamo a vedere come conclude il giro il primo tentativo in Q2 tutte e due l'alfa romano in Q2 comunque raga non è una cosa da poco contento per Paul perché Paul sappiamo che fa veramente fatica comunque trovare il giusto feeling soprattutto col gioco perché comunque Paul si comunque è alto ci tiene ma è altino si 45,9 si mette comunque in P3 rimane lì assolutamente tre decimi da chi le bevi però quasi quattro anzi no poco più di quattro oddio la matematica un po' così se non sbaglio adesso c'è sta Gabbo che sta per chiudere il giro il pilota della Red Bull Red Bull che comunque regà un pochino più si deve ritrovare per quanto riguarda la costruttori su la RWS eh sì perché comunque rilevando tutte le altre due categorie insomma comunque domina domina insieme alla Williams e la Red Bull si è lanciato che nel primo settore fa 30,0 raga Mu fa 45,5 con le gialle ragazzi Mu fa 45 con le gialle è un grandissimo giro è un grandissimo tanto qui Alfetta sta per chiudere il giro l'altro pilota è dell'Alfa Dauri vediamo come chiude il giro il pilotino di casa nostra casa mia anzi 45,8 non è buonissimo non è neanche tanto alto però si deve far di meglio intanto se non sbaglio c'è anche Santi che ha lanciato no giro annullato io sono su Dani Messi Dani Messi è per essere lui con una nuova in teoria perché fatemi vedere Dani ma come no ecco lo giro l'abbiamo accontentato Dani Messi sta per concludere il secondo settore in 1,15 e 8 identico 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 a Pretestipanzo ha fatto un giro identico a Pretestipanzo se non sbaglio anche lui è lanciato dopo lo andiamo a vedere c'è anche Adelante Pocio se non sbaglio raga Adelante Pocio sta appena lanciato quindi finito Dani Messi io andrei poi su Pullit pure è lanciato Pullit si è lanciato adesso eh si Pullit c'è lanciato vediamo Dani Messi sta per finire il giro vediamo come conclude il pilota della Williams uno di quelli che sicuramente farà il grande giro e lo sta facendo anche adesso 1,44 e 0 la gomma nuova eccola eccola la gomma no 44 e 0 è un ottimo tempo è un ottimo tempo ragazzi se non sbaglio adesso rispondono ai tempi di panzo eh Adelante Pocio se non sbaglio è il prossimo a chiudere il giro c'è anche Giubba che intanto Pullit è nullo 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 ok io rimane solo sul pilota dell'asse che come ben sappiamo si sta giocando il il titolo piloti quindi lui ci tiene veramente tanto comunque mancano non tante gare sicuramente i punti adesso regà 1,2,3,4 punti faranno la differenza quindi anche comunque arrivare più alti possibile è quello che conta soprattutto non perdere il treno perché fare fare 0 punti regà all'ultima parte della stagione è veramente pesa 16,4 è un pochino altino gomma usata forse non lo so non lo so non lo so beh lui era in difficoltà anche in Q1 però perché non è che ha vediamo come affronta perché Q1 ha fatto un tentativo lui vediamo come affronta l'ultimo settore perché vediamo da come traziona ma ha messo la terza sub io penso che 44,9 la mette in seconda la persa ma panso 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 dispiace solamente che comunque ha raminato lo stint e che se non sbaglio lui era con gomma nuova sì gomma nuova gomma nuova peccato peccato per il predestimanzo che ha fatto segnare quel mega tempo in Q1 ma c'è Dani Messi che sta rispondendo con un 44,0 in Q2 quindi sa che comunque predestimanzo diceva si stava nascondendo o no perché comunque Dani Messi come specificavamo a noi prima ha girato con la media esatto Pulitz si è rilanciato intanto dopo il tiro annullato intanto Wallace manda due due faccine non so se è un gufo o Melmi non so che cosa intanto andiamo su l'altro pilota della Williams che è appena lanciato è Pulitz non so il primo settore quanto ha chiuso è due decimi più alto di Dani Messi 32 se non sbaglio anche lui è con gomma nuova si è gomma nuova è gomma nuova no gomma usata perché lui l'ha annullato gomma usata quindi gomma usata alla fine eh si lui sta ripetendo il giro ah nel senso che non è rientrato il box no impossibile no 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 lui sta annullato il giro precedente si è rilanciato e quindi gomma è gomma usata Valerio dice a Manuel rispondimi ma su che cosa Valerio non abbiamo capito tra l'altro vediamo Pulitz come chiude il secondo settore ricordiamo il 15-8 di Dani Messi è 16-1 comunque si è sempre due decimi c'ha ragione Loris Badacchia comunque due decimi è lì comunque un 44-3 44-2 quindi se la sta giocando comunque i due della Williams raga è veramente regnano sovrana dicevo anche i Girolequint prima della live che comunque stanno facendo un po' non dico come vogliono però diciamo che se la stanno a comandare come la pensate voi comunque si hanno fatto secondo me un po' troppi errori perché potevano stare tranquillamente tutte e due secondo me conoscendoli sapendo quanto vanno veloce secondo me potevano tranquillamente essere loro due prima e secondo nella classifica però dai gli è mancata forse quella costanza che ha avuto che ha avuto nell'anteposcio all'inizio sì sì confermo comunque tutto quello che hai detto ogni pensiero mancano quattro minuti e mi aspetto adesso un giro di predestipanti non so in questo momento il box con Thomas che cosa si stanno dicendo quindi sicuramente faccio il giro con la secondo me è tutto gli stanno dicendo di fare un giro tranquillo non rischiare di fare un tempo sicuro e poi oddio come ho fatto non lo so perché dopo che l'ha svinnata lì si ha bloccato le gomme non so se quel set è ancora buono non so intanto si sta lanciando con la gomma nuova rossa lo stint rosso vediamo adesso Tarta che combina perché comunque 1.463 è abbastanza altino per passare dovrebbe buttare giù almeno un secondo e mezzo quindi Tarta faccio vedere che cosa sai fare è che il tuo buon caro mano all'equilibrio ti sta guardando ci crede tanto in te dopo le le migliaia di laggate che ci ha dato diciamo nelle gare scorse dopo c'è la bandiera gialla e sì no un rallentamento niente io rimanerei su Tarta perché si dimmi chi è lanciato? volevo chiederti no volevo chiederti una cosa il perché sto andando a vedere la situazione di gomme che ho usato più o meno e Pando me lo dà che questo in teore dovrebbe essere il suo secondo set di gomme nuove però è rientrata in box se si entra in box quando esce dopo ti metto un altro bollino o te ne lasci uno solo se ti ne ha gomusata sì è vero c'ha ragione dunque mamma mia Loris mi piace vedere questi piccoli dettagli Emanuele ci mancano queste cose bravo Loris bravo lui è il nostro Matteo Bobby sì sì ma l'ha detto intanto sta facendo un buon giro Tartaruga anche se il primo set è un pochino alto noi non ce ne intendiamo di queste cose noi siamo più come possiamo dire showman come possiamo dire non siamo tecnici noi no sicuramente io no lo ammetto allora intanto divincono dalla chat Williams ha sfiorato il budget dice il soldano ma diciamo che tra tutte e tre le categorie altro che Red Bull insomma l'ha sfiorato alla grande l'ha proprio passato di sicuro e giusto qua perché Tartar il cocco infatti hai risposto Manuel è bravo beh il cocco diciamo anche curato l'Oda insomma io me lo terrei molto stretto che è un gran pilota Emanuele sì assolutamente intanto Panze è rilanciato adesso andiamo a vedere il giro su ma intanto Tartar concludo il giro ma è un buon giro di Tartar è un 45-1 la punta in P6 ma quanto è bello vedere i due Mercedes in lì Emanuele uuuuh primo setore di Panzo 29-8 mamma mia io infatti subito su di lui andiamo a vedere il pretesti Panzo come conclude il giro chissà se Dani Messi si dovrà studare lì quel primo posto perché sa che un pretesti Panzo è lanciatissimo per quanto riguarda almeno arrivare in Q3 perché io penso che tutti e due ragazzi veramente si daranno l'anima anche oh anche Achille Bevi 29-8 primo setore eh Achille Bevi infatti toccherebbe andare a seguire insomma ti rimango prima su pretesti Panzo poi subito si si chiama Achille Bevi e dietro e dietro dietro intanto lì davanti c'è un piccolo in piccioli davanti a lui spero che si spostino subito perché sta appallanciatissimo il pilota dell'Alfa Romeo vediamo comunque nel secondo settore a pretesti Panzo in 1-15-9 ha fatto un pochino meglio ha fatto un pochino meglio il Lencuno ha perso un pochino secondo me qui il pilota dell'Alfa Romeo si 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 ha perso ha perso un decimino rispetto a Dani Messi qua intanto Achille Bevi dove che sta chi era che ha lanciato Achille Bevi si ma mi sa che ha sbagliato eh si perché comunque ho visto che ha alzato il piede intanto si scansa qui Jäger probabilmente si starà rilanciando vediamo come con cui del giro il pilota dell'Alfa Romeo il cocco di casa di The Wall in 1-44-3 perde un pochino ma secondo me quei decimi li ha pagati al secondo settore centrale l'importante è che era messa dentro ora non conta nulla l'importante è che era messa dentro si si è per comunque arrivare in Q3 ragazzi diciamo che questa pista si supera parecchio tanto se non sbaglio è Corrado Loda che è lanciato Corrado si sta per lanciare Achille Bevi pure si sta per lanciare ho entrato in box si sta per lanciare si no rientra 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 eh si comunque le rischiare sono Muachille Bevi Giubbacchette Mirko e Alfetta allora Mu mi aspetto qualcosina più infatti è lanciato è sotto di quasi tre decimi rimarrai su di lui la wildcar di Ciuccia Rodelle con lui che magari chissà se gli porterà punti in casa Ferrari intanto fa segnare 1-16-1 è un ottimo tempo ragazzi eh un 16-1 è un ottimo tempo è solamente due decimi da Dani Messi io penso che lui farà su un 44 e mezzo forse ci metterà tra Pullit e Predestipanzo andiamo a non borde su di lui sta per cuterire il settore 9-1-3 sembra sembra che stiamo a chiamare qualche guardia veramente lì 44 e 6 44 e 6 44 e 6 tra Pullit e Predestipanzo è un ottimo giro del pilota della Ferrari comunque 44 e 3 44 e 6 44 e 7 Giubbacchette mette in P8 vediamo gli altri lì dietro anche Polle se magari riesce a migliorarsi eh no taglio il giro quindi Polle no solo Mirko ci è rimasto così è addirittura di quasi mezzo secondo vediamo Mirko dove la mette in 45 44 e 9 e mette fuori Tartaruga non ci voleva dove l'ha persa eccola dove l'ha persa andiamo a vedere non ci voleva non ci voleva finisce qui la qualifica non ci voleva da che tutte e due le Mercedes erano in Q3 si è moda Emanuele guarda dove stanno addirittura tanto Sante riesce a guadagnarsi la Q3 è buono anche il pilota dell'Alfa Dauri tutte e due le Red Bull Adelante Pocio Moog comunque ci sta facendo vedere che comunque è un buon pilota sicuramente lo sta facendo rimpiangere Sima che lo saluto e ci dice che ci rivedremo in Olanda e comunque raga pretesti Panzo e Dani Messi ma Dani Messi raga secondo me è veramente una spanna in più Dani Messi veramente veramente fuga si si fatto qui Polle litiga con l'ingresso in box che comunque raga piccola parentesi poi la chiudo l'ingresso in box quanto è maledetto come gli altri quella è vera questa è veramente mamma mia è vera l'uscita poi l'uscita pure con gomma fredda è brutta mamma mia tanto salutiamo Kevin in arte ciuffo che dice Jagger ha fatto 44 e 5 con gomma usata raga se veramente è così Jagger tanta roba perché bomba usata io non sono sicuro ce lo dice il nostro buon caro Kevin Kevin Ciuffo lo chiama no io non non lo so allora io mi aspetto qualcosina di più intanto da Pullit perché secondo me Pullit anche lui potrebbe starli tra i primi sì assolutamente tanto andiamo a vedere sì sì sicuramente sicuramente andiamo a vedere gli eliminati gli eliminati sono clamorosi ritiro di Corotoloda praticamente poco prima della fine del secondo settore quella curva maledetta d'Artaruga che per pochissimo non riuscita a passare il taglio Paul Achille Bevy Alfetta abbiamo tutte e due Red Bull la McLaren la Ferrari e l'Alfa Romeo di Prete Stipanzo mi aspetto allora a questo punto così dice Kevin insomma che Jagger è pure in grande spolvere vediamo insomma io non sono sicuro di questa cosa perché se abbiamo fatto 44 e 9 l'ha fatto prima il giro con l'usata non penso che ha rifatto dopo un altro giro la gomma usata no no dopo ha usato gomma nuova perché sta guardando il dettaglio e ha usato due set quindi un usato il primo giro con gomma usata questo è il primo sì comunque sono tutti con gomma hanno usato tutti i due set di gomme fatta eccezione per puliti da di mese allora allora qui Asmi dice complimenti campione rvs Kevin dice lo giura e arrivano addirittura le conferme da Rioda non so chi fosse storia da 7 che dice ve lo giuro perché ha usato due stinte nuove in Q1 e beh vediamo allora se ci farà vedere la prova del 9 è la Q3 perché sta per iniziare adesso è partito il countdown quindi vediamo Mu dice sta pista per fare un giro buono devi pregare tutti i santi con il piede con sempre il piede alzato quindi sta dicendo che Mu ha fatto il giro anche che lui potrebbe fare di meglio ma raga io vi capisco comunque arriva in Q3 è difficile però una volta che ci siamo arrivati io penso non bisogna tirarsi indietro perché comunque Corrado Loda io penso che stava provando a spingere quindi allora Corrado Loda io c'ero su on board aveva fatto un primo settore che era identico a quello di Danny Messi e quindi secondo me sarebbe riuscito tranquillamente a buttarla dentro poi ha fatto ha fatto quell'errore perderla in quel punto non è cosa non è difficile perché se vai sul cordolo lì rischi di perderla e dispiace perché secondo me è vero chiuso con un buon giro intanto io rio da 7 dice di essere Jäger di 7 quindi lui dice ve lo giuro vi mando la foto ma non c'è bisogno che ci impreghi insomma non è che siamo la giuria o siamo la cioè ci mancherebbe altro ti crediamo stiamo solamente dicendo ok adesso faccio vedere il giro buono Jäger visto che comunque dice hai fatto il giro comunque se è veramente così io alzo le mani comunque io personalmente pure faccio fatica a fare il giro buono addirittura sotto vedremo il Q3 se quel giro era con gomma usata o nuova lo vedremo adesso chissà adesso fa tempi simili a quello e gomma nuova era tanto Jäger dice Valerio dice io sono bene e io me le taglio Simoschile dice Venezuela adesso Simoschile ci spiegherà perché sarà scritto con Venezuela ok se non è scelto così intanto il primo a lanciarsi è pretestipanzo adesso mi viene da dire sicuramente lo farà con gomma usata regà per forza non penso che tenterà lo stint nuovo subito in Q3 eh sì io penso che lui cioè gli convenga fare un giro con con gomma usata perché almeno c'ha un un riferimento dopo con la nuova e sicuramente userà poi perché almeno che non ha una strategia che è più sul morbido e quindi si trova con più gomme no però ha usato la zalla ha usato nanch'uno anche mi sembra sì ha usato la zalla lui allora sono usato di gomme lui Tarte è da dimessi se non vado se la memoria non mi inganna quindi sì 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 intanto vediamo come si sta per lanciare adesso come affronterà il giro il nostro rv pretestipanzo sta per lanciarsi ora curiosissimo di vedere comunque anche in base dei tempi che comunque probabilmente lo sta facendo con il rassinto usato è la Q3 ragazzi quindi questa è la fase finale la fase saliente la fase calda che è in spa quindi ci aspettiamo almeno grandi tempi ma aspettiamo con 43 e mezzo 43 alto visto che comunque i ragazzi dicono di stare guidati con la paura ma vediamo se in Q3 la paura regnerà sovrano o magari tenteranno veramente il giro folle intanto è un 30 al 30 preciso penso gomma usata comunque su 29 erano se non sbaglio il la Q1 la settore 1 si 29 8 era si due decimi sopra poi ci può stare come usata si allora gli altri lanciati se non sbaglio rv sante dietro di lui poi piano piano si sta lanciando ecco jager pure si sta per lanciare è il prossimo a lanciarsi dopo sante quindi dopo andiamo ad asseguire il giro anche comunque se non sbaglio appena finisce il giro sa sante no e jager si troverà quasi al primo settore quindi curioso di vederlo il primo settore curiosissima ma probabilmente le williams vanno a marcatura su jager vanno ah è una cosa che ho notato una cosa che ho notato le redbull chissà se faranno il gioco intanto 16 e 4 gomma usata per predestivalzo 16 e 4 sarà sul 44 45 basso la butto lì intanto attenzione perché più lì non so se prende un po' di scegliere occhio che è abbastanza non è lontanissimo eh no potrebbe sentire un pochettino eh lo seguita vicino la roba 44 e 8 è un ottimo tempo ma andiamo a vedere lì davanti che stanno è un po' lontano Santamuro 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 no Santamuro non ci voleva finita il secondo settore inizio del terzo settore peccato 30 netto pulli tempo jager 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 oh jager adesso ti inquadro perché sono curioso di vedere perché volevi fare il giro ma mi mi hai ma io sono contento comunque comunque tenti il tutto per tutto eh volevo vedere il tuo giro peccato peccato volevo vedere il giro su comunque c'è che era era alto due decimi rispetto al giro di panico il primo settore pulli della più di tre decimi però vabbè pulli secondo me un po' di scialà sentito sì sicuro pulli 30 netto però attenzione perché questo è il primo giro adesso non voglio non voglio buffargli era ma il primo giro serio che fa pulli perché con gomma nuova eh sì ma che secondo settore ha fatto pulli 15 2 ragazzi ma io penso che è lanciatissimo è lanciatissimo pulli ma io beh io dicevo su 43 basso 43 e mezzo la pull ma vediamo pulli adesso come vediamo come affronta quest'ultima chicane pericolosissima soprattutto in uscita di trazione vediamo ah un pochino largo qui la spinna ha perso è 43 e 9 ma ha perso ha perso ma io penso su 43 e 7 43 e 6 ce l'aveva tanto jager vediamo se si rilancia ma penso di no no jager non si rilancia danni alto danni danni 44 e 2 ma penso anche lui con me usata no con me usata no però con me usata danni non penso perché alla fine lui ha usato un set in Q1 in Q2 che ha 27 l'ho in Q1 ha fatto addirittura con la gialla quindi eh sì quindi ha 27 nuovi tanto adelante goccio adelante goccio ha fatto 15-8 non è il secondo settore di pullit ma io penso e comunque il clus era sul 44 netto vediamo penso dovrebbe stare lì ma regal secondo me 44 e mezzo dici secondo me sì o può essere magari può essere il tempo identico anche a Dani Messi evitiamo come affronta l'ultimo settore comunque l'ultimo settore regal paga veramente tanto si è fatto bene 44 e 2 sì 44 e 2 buono buono beh diciamo che regal pullit ha fatto un signor giro peccato per l'uscita dell'ante peccato peccato veramente tanto abbiamo i primi 3 che sono pullit dell'ante posce e Dani Messi poi abbiamo 913 che ha già il giro nullo peccato per lui abbiamo Jäger che sicuramente rientrerà in box per poi diventare l'ultimo giro perché comunque anche nel tempo ne è veramente poco poi penso che istinti regal sono finiti le gomme sono quelle quindi aspetto anche un tempo anche da Mirko Giubaghetto e Gabbo i due Red Bull sì ma loro hanno solo una gomma quindi aspettano gli ultimi minuti perché sappiamo che gli ultimi minuti della Q3 dà la maggior trazione ragazzi veramente tanta sì assolutamente però non condivido la strategia di non provare con gomme usate perché secondo me secondo me l'ultimo tentativo con gomma nuova se hai quel delta che ce l'hai vedi riferimento comunque ti dà quel qualcosa in più secondo me avere avere un riferimento intanto qui ci dicono dalla chat gomma usata per pull it ma io non so se adesso lo dice tanto per lo dice in maniera poi abbiamo sciagole io lo so perché lui non ha fatto il tempo la gialla alcuno sciagole intanto dice sulla sedia si nasconde sulla scuola io non capisco la sedia io penso che sta seduto penso che si sta godendo insomma lo spettacolo della sua Williams comunque danni messi e pull it veramente sul sul velluto quest'anno veramente tanta roba ma lui sta godendo come un matto sta godendo già me l'immagine tratto dicono che che trio stasera al commento grazie sciagole ma c'è ragione ma secondo me l'attore io l'immagino sul divano bello allungato guardare la live con la bottiglia di birra sciagole stiamo parlando di noi ci stai sentendo sciagole sento lo spettacolo intanto Wallace dice che si nasconde pull it ma allora pull it non penso perché comunque pull it il giro l'ha fatto con gomma nuova perché i Q1 e Q2 ok che ha fatto diversi giri ma sempre con la stessa gomma non ha mai cambiato quindi lui ha due tentativi con gomma nuova secondo me se non faceva quell'errore un 43 6 poteva venire cuorci tanto Simo Schiele dice che già in testa in Olanda ma regà io Olanda ecco l'ho fatto un giro stasera poi basta sinceramente quindi Olanda è una pista che odio sarà il prossimo weekend nostro di la IRF quindi sarà un'altra gara regà veramente tosta Olanda e poi dopo Olanda a casa nostra a casa nostra a Monza chi sa chi sarà il predestinato lì perché comunque lì veramente è tanta roba Monza Monza non esistono i piloti più veloci la regna veramente le ali 0-0 la fanno la sovrana esatto è là può vincere più perché basta che rimani in scia che puoi essere più lento ma rimani lì intanto si stanno praticamente pugicando sia Asmi che Shagod lasciamoli fungicare in pista poi un'altra storia tralasciamo quello che è successo in pista poi per quanto riguarda lunedì sera Manuel è veramente un po' rispetto a Ungheria migliorata la situazione però veramente un po' Ungheria è stato toccato veramente al fondo intanto prima a lanciarsi concluderà la Q3 Giubaghet la pilota della McLaren comunque anche lui è arrivato in Q3 ricordiamo che lui è il pilota lo ricordo sempre ogni gara lui è sceso dalla Rvl quindi io mi aspettavo di più dal pilota della McLaren comunque lui insieme a ah un predestipanzo si anche lui Rvl si sta facendo vedere per quanto vale ho visto anche faccio esempio più anche Tommy però lui scende dalla Rvl alla Rvl più lui è un po' matica questa diciamo che il gioco è a chi ha baciato e a chi non ha baciato Manuel si è cambiato molto è chi ha trovato il feeling e io mi metto tra quelli che ho avuto il feeling e comunque la macchina è impostata in base allo mio stile di guida io quasi no forse si forse la fanno a partire col giro perché sono un po' tirati da Nimesi ad l'antepocio si allora io sono su Giubaghet comunque ragazzi torniamo alla cut perché comunque Giubaghet sta per concludere il secondo settore il prossimo a concludere è Mirko Mirko non l'ho visto il primo settore di Mirko intanto 16-1 per Giubaghet Mirko Nullo Mirko Nullo peccato Red Bull Nullo quindi sicuramente P8 e P9 perché comunque Giubaghet lo concluderà al giro anche se non sbaglio sta sul 44-2 Giubaghet vediamo se la matematica mi ha dato ragione torto vediamo il settore l'ultimo scicante la fa abbastanza buona 44-7 altissimo invece altissimo per Giubaghet comunque la mette in P5 se non sbaglio il prossimo a chiudere il giro è Jäger vediamo Jäger 15-4 Jäger 15-4 è un po' più lento di Pullit al momento eh ma lo può Pullit nullo Pullit nullo allora vediamo Jäger vediamo Jäger che cosa fa se fa la magia vediamo se Jäger fa stazzitti tutti è sbagliato vediamo se veramente la può buttare lì la P1 il pleno dell'Aston Martin andiamo in non board su di lui esce meglio perché quei Pullit l'ha sbagliato prima l'ha sbagliato prima ed è pole position è pole position provvisoria di Jäger 44-7 Pullit si sta mangiando le mani ragazzi io andrei sul Canimessi Canimessi alto 15-7 non è alto è alto per quanto riguarda la pole anche Adelante Poi si Adelante Poi se non sbaglio sta per concludere il giro non ho visto ragazzi perché Panso si sta mangiando 8-10 in secondo settore dovrebbe essere il 43 alto potrebbe fare andiamo andiamo ecco lì seguiamo tutti seguiamo tutti c'è Dani Messi c'è Dani Messi c'è Dani Messi Adelante pocio 44 Adelante pocio Adelante è pronto vedessi panso 44-0 44-7 ed è pole position ed è pole position per il pilota dell'Aston Martin colui che diceva girato con le usate mettendo la nuova ma Pullit ragazzi Pullit si sta mangiando le mani perché Pullit aveva la pole in mano è uscito malissimo da quella scical maledetta veramente raga veramente gran giro di Jäger 43-7 ma pure Adelante no che era Adelante pocio ha spiorato Dani Adelante pocio è attaccatissima Jäger cioè per pochissimo mamma mia Adelante pocio 50 millesimi 50 millesimi difficoltà alcune lo troviamo sempre là mamma mia Dani Messi ma secondo me ragazzi Dani Messi non si è aspettava quei 3 là davanti no ragazzi ma secondo me la pole la faceva Pullit se non sbaglio Pullit ragazzi ci aveva a mano Pullit ci aveva a mano quindi si sta mangiando le mani ma raga sappiamo che comunque Spa si supera veramente semplice ragazzi si no ma Spa la qualifica è una delle piste in punta di meno insieme a Monza si è relativo veramente comunque secondo me portarla in Q3 è già una vittoria portarla in Q3 è già una vittoria rispetto all'ultimo settore Pullit ha fatto quando ha sbagliato il giro 28.5 mentre Jäger ha fatto 28.2 facendo il settore pulito dell'ultimo settore quindi contando il giro di Pullit si ha buttato via la pole position tanto Mu ci dice che è volato quindi probabilmente anche lui ci aspettavamo un gran giro da Mu si è per lui l'ultimo giro io non so io non so se lui veramente avrebbe fatto il giro che ha fatto sia Pullit sia il nostro caro Jäger adesso ragazzi entriamo nel vivo sta per iniziare il gran premio di Spa Caterghi RWS questa è la Ilf Channel ragazzi siamo nella dodicesimo dodicesima gara della nostra stagione ce la godiamo tutta è in compagnia qui c'è sempre il nostro buon Norris Badacchi Emanuele ragazzi pronti perché sicuramente buona gara è bene il sole quindi tranquilli quindi chissà se alla fine della gara ci regala qualche goccetto di pioggia ma io vediamo perché Spa è sempre esotico il meglio ai ragazzi ovviamente gli auguro di no quindi aspettiamo i prossimi secondi per quanto riguarda anche le strategie per chi corre non è bello avere la gara mista Manuel e Loris la butto lì noi abbiamo corso sulla pioggia tu caro dovresti correre domani Loris quindi la butto lì strategia io ho visto che lo c'era bianca all'inizio facciamo prima Manuel così non ci impicciamo io allora fossi io oppure dovrei consigliare a qualche pilota direi di partire con la bianca perché ho notato che già dopo 6-7 giri la bianca si mette sempre la gialla e poi la gialla nel secondo stint vai due secondi più veloce buono buono sì io concordo con quello che ha detto Manuel perché è vero secondo me la bianca è più veloce inizio 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 gara però e qua secondo me potrebbe uscire se c'è una safety car tu c'è la gialla con la bianca ma in fondo quindi secondo me la strategia migliore è gialla bianca solo per quel motivo lì Alfred ha crashato io adesso non mi ricordo in quale posizione parta spero che recuperi il più presto possibile tanto mancano solamente 10 secondi buona gara a tutti ragazzi divertiamoci perché veramente vediamo una grande gara sicuramente qui come Ungheria io mi auguro veramente che succeda il non mai le cose gravi no ragazzi 1 2 3 4 Simotori 5 per il gran premio di Spa partono subito Jäger parte benissimo parte anche bene la As di Adelante Pocio lì dietro Presti Mazzo prova a infilarsi vediamo qui davanti intanto Adelante Pocio mette il posto Adelante Pocio mette il posto c'è lo svantaggio Jäger è partito con le bianche Presti Mazzo sta combattendo con Dani Messi ruota ruota con i due anche lì dietro sono partiti abbastanza bene Adelante Pocio che cerca di scappare buona partenza del piano della As Jäger la sicura poi Presti Mazzo più a più di un tanto vedo un largo lì sì Jäger è andato largo Presti Mazzo cerca di approfittarne Presti Mazzo sull'interno all'interno Presti Mazzo all'interno all'interno prende la passata mamma mia resiste no mamma mia ragazzi la sbirala qui Jäger ha resistito prende il Stipanzo subito un fire Adelante Pocio è partito benissimo vedete Animesi e Pullit lì in P4 in P5 dietro mi pare abbastanza regolare la situazione andiamo a vedere intanto qui stanno combattendo Cub e Pull partite abbastanza bene partenza pulita confermate ragazzi mi pare di sì è molto pulita intanto vediamo da di giro telemetria lascio tutto ok Adelante Pocio intanto cerca di fare quello che dovrebbe fare staccare il gruppone quasi due secondi già neanche un giro è andato da Jäger perché sa che comunque ha il vantaggio Nimescola sa che Predestipanzo non deve perdere il treno dietro l'antepocio perché in questa pista ragazzi fa veramente intanto Alfetta non riesce a rientrare peccato per lui intanto Predestipanzo non deve perdere il treno dietro l'antepocio perché poi ragazzi qui quanto fa veramente l'ala mobile in quel primo settore è clamoroso ragazzi intanto Predestipanzo tenterà di stare il più attaccato possibile intanto lì dietro mamma mia staccato Nimesi le due Williams ma è attaccatissimo è attaccatissimo Panzo è attaccatissimo patta addirittura alle esterne